Questo è il quadro infinito. Ogni giorno stendo il colore prodotto dalla ciotola sopra questa superficie. Nel 2010 circa ho voluto raccontare la stratificazione facendo un piccolo lavoro che si chiama frammento pittura che ha un piccolo gioiello, una micro scultura teca che contiene un frammento del quadro infinito staccato dall'angolo in alto a sinistra. Questo pezzettino fa sentire la fisicità della pittura che è una cosa che si tiene nella mano.